Nel 1991 Fanno propose per la prima volta l'idea di una città a misura di bambino. A distanza di 25 anni, la Giunta Sera ha deciso di rilanciare il progetto, ospitando nei giorni scorsi uno dei principali protagonisti di Fanno Città di Bambini, il professor Francesco Tonucci. Durante il convegno sono emersi i problemi, le difficoltà, ma anche diversi consigli per espronare gli amministratori locali a trasformare la città in un ambiente sicuro e vivibile anche per i più piccoli. Sull'argomento la nostra redazione ha chiesto il parere dei cittadini fanesi. C'è chi non si lamenta e si accontenta per quello che c'è già e chi invece dà qualche suggerimento al comune per migliorare i parchi, il verde pubblico e la sicurezza sulle strade. Che cosa si potrebbe fare? Migliorare i parchi, migliorare l'avviabilità, tante cose. Perché come si dice, a misura di bambini, dopo va bene anche per noi. In una città a misura di bambino, è vero come dice Tonucci, va bene per tutti. Per gli anziani, per gli disabili, per tutti. Quindi si può fare di più e di meglio. Potrebbe fare qualcosa di più, soprattutto il verde pubblico, attrezzarlo meglio, secondo me anche i passeggi che sono lasciati un po' andare. E tante strutture che potrebbero essere migliorate per fare in modo che i bambini possano stare all'aria aperta, ritrovarsi liberamente, invece che andare, no? Avere tutte queste cose strutturate, la ginnastica, per carità, a provo in pieno. Però c'è bisogno di riscoprire questo modo di ritrovarsi all'aria aperta, secondo me. Si potrebbe fare di più, se uno volesse, ma è un momento proprio... E questo non è niente, è quello che verrà. Lei che cosa ne pensa? Si potrebbe fare qualcosa di più, anche per quanto riguarda i giochi o la sicurezza nelle strade? I giochi sì, sicuramente qualche parco gioco in più, sicuramente, in qualche posto, magari studiato, adatto, posto per i bambini sì, perché sinceramente non ce ne sono tantissimi, a parte quello a San Paterniano però... A proposito di giochi, questo, ad esempio, è uno scivolo situato nel parco di Via Campagna, dietro la scuola Matteo Nuti, e come potete vedere non ha nemmeno i gradini in legno per farci salire i bambini, sempre in zona Poderino. C'è però un altro parco, molto più frequentato dalle famiglie, perché sistemato dal comune pochi anni fa. Veniamo spesso qua, però ci mancano magari un'altalena, cosa da dire, qualcosina in più sì. I giochi che ci sono, sono curati? Abbastanza, adesso non ci lamentiamo di tutto, però l'erba, per esempio, un po' tagliata più spesso, andrebbe bene, però il comune dice che non c'è i soldi e ci accontentiamo. Insomma, secondo lei si potrebbe migliorare la situazione sia per gli anziani che per i bambini? Certamente, la situazione si può sempre migliorare, soprattutto per gli anziani e per i bambini, che per il territorio nostro, che è un ossi, momentaneamente ancora un ossi, a differenza di tante città come Roma, Milano o Napoli, eccetera, eccetera, per cui va proprio conservato, è un obbligo del cittadino tenere a posto le cose del comune. Il comune da parte sua potrebbe fare di più? Fare di più, si può fare sempre di più, però cerchiamo di mantenere momentaneamente tutto quello che il comune risolve, non distruggendolo, ma conservandolo per il bene di tutti.